Bellomo calzature per bambini da 0 a 12 anni via Cannaviello 86 a Villino Il papà e il suo bambino a Torino per sostenere la Juventus contro l'Atletico Madrid in Champions mano nella mano per soffrire e gioire insieme sugli sparti dello stadium a ritorno in albergo ancora festanti per l'impresa di Ronaldo e compagni una magica serata da raccontare a tutti una volta tornati a casa insieme, mano nella mano poi il dramma all'improvviso, Vittorio si sente male, viene stroncato da un infarto il suo bambino avverte i soccorsi ma ormai troppo tardi la sua mano però non si staccherà mai dal suo amato papà che resterà per sempre il suo invincibile gladiatore la storia di Vittorio Salvati ha commosso l'Italia intera appena diffusasi la notizia sulla morte del 42enne commercialista originario di Atripal sono stati numerosi gli attestati di solidarietà e messaggi d'amore che sono giunti anche da fuori province un unico abbraccio che va al di là di ogni fede calcistica e bandiera è ancora difficile per i suoi amici accettare il vuoto che ha lasciato Vittorio il nostro pensiero va alla sua famiglia sicuri che il gladiatore proteggerà anche dall'alto il suo bambino e quella mano per chi ne ha bisogno resterà sempre tesa un pezzo di cuore Daniele Damasu lo ricorda così I ricordi sono innumerevoli sono innumerevoli dai primi momenti della conoscenza grazie al suo più caro amico Adriano che è anche il mio più caro amico ad andare avanti ricordi meravigliosi legati soprattutto spesso appunto allo sport che lui amava lui intorno a una ventina d'anni fa anno in più o un anno in meno veramente sai mi veniva a prendere non aveva ancora la patente mi ha portato a ballare a divertirci quindi in un certo senso veramente appunto quello che mi sono sentito di dire è stato questo cioè veramente mi ha preso per la mano mi ha portato a conoscere il mondo l'ultima volta che l'hai sentito? poco tempo fa ci siamo visti discutendo magari sempre l'avellino purtroppo del momento che vive e poi della Juve della fiducia che poteva esserci quest'anno nel vincere qualcosa di importante e spero che a questo punto lo faccia veramente la Juve per lui veramente Di Vittorio cosa ti mancherà e qual è diciamo l'immagine che porterai per te per sempre? Guardia Valle in generale sempre ci mancherà perché sono tanti gli amici di Vittorio tanti 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 ci mancherà lui il suo modo di di parlare particolare il suo modo di sdrammatizzare a volte tutto ciò che era Vittorio che però vivrà vivrà sempre in noi sempre 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 sempre